Io sono Chiamatemi Guerriera e questo è il mio canale. Vi aspetto questa sera alle 20 per un'intervista. Intervisterò per voi Laura Gioia. Parleremo di teatro e tutte le cose che lo circondano. Vi aspettiamo numerosi questa sera alle ore 20. Se volete potete fargli anche voi la vostra domanda. Baci stellari. A stasera.